Dopo la nostra breve parentesi sull'impero arabo-islamico, torniamo in Europa. Vediamo cosa succede in Europa dopo la caduta del impero romano di Occidente e dopo le invasioni barbariche. Comincia il periodo di interesse del nostro programma scolastico, e cioè il Medioevo. Il Medioevo è quel periodo che va dalla caduta dell'impero romano di Occidente, 476 d.C., alla scoperta dell'America, 1492, e si pone tra l'età antica, l'età dei grandi imperi, e l'età moderna, quella degli stati nazionali. E' chiamato Medioevo perché è un'età di mezzo, un'età di passaggio, appunto, tra questi due grandi sistemi economici e produttivi. Il Medioevo al suo interno ha un'ulteriore divisione, quella tra Alto e Basso Medioevo. La data che divide questi due periodi è il Mille. Il Mille, in cui veniva convenzionalmente, essendo un anno tondo, veniva fissata alla fine del mondo. Quindi la divisione tra Alto e Basso Medioevo sta nella mentalità della gente. Appunto, in attesa della fine del mondo, l'Alto Medioevo è un periodo scarsamente produttivo, un periodo di declino, di rovina. Dopo, subito dopo l'anno Mille, non essendo avvenuto la fine del mondo, c'è un periodo di ripresa, in cui si formano i diversi stati nazionali. Le guerre e i saccheggi seguiti alle invasioni barbariche avevano sterminato molte persone. A questo si era unito l'insufficiente alimentazione dovuta alla scarsità di cibo e le cattive condizioni igieniche dopo le distruzioni delle città che rendono la popolazione più vulnerabile, più soggetta alle epidemie, soprattutto di peste. Ciò provoca un significativo calo demografico. Nel VII secolo, quando erano cessate le migrazioni dei barbari, dei germani, la popolazione europea si era ridotta dagli 80 milioni del II secolo d.C. a non più di 10 milioni. Molti centri abitati erano scomparsi o divenuti sempre più piccoli, mentre le città si erano trasformate in enormi cave di materiale edilizio che la gente riutilizzava per costruire case in posti più isolati e più difendibili. Roma, che nel II secolo d.C. contava più di un milione di abitanti, alla fine del VI secolo era scesa da appena 50.000 abitanti. In questo periodo in cui scompaiono scuole pubbliche e sono chiuse le biblioteche, solo la Chiesa, oltre a soccorrere i poveri e i malati, mantiene aperte le sue scuole per la formazione dei sacerdoti e diventa così il centro della cultura. Il nuovo paesaggio, quindi, era stato invaso dall'incolto, cioè i terreni agricoli non più difendibili da invasioni barbariche erano stati invasi dalla foresta, dagli arbusti, dai cespugli, mentre i fiumi erano esondati, visto che nessuno poteva curare i suoi argini, e si erano creati anche le paludi. Questo incolto, però, diventa presto una risorsa per gli abitanti di Europa. Nelle foreste essi potevano procurarsi legname per il riscaldamento e per la costruzione di nuove abitazioni. Potevano procurarsi del cibo cacciando la selvaggina o raccogliendo frutti spontanei. In questo periodo le castagne, che nascono spontaneamente nelle foreste, avevano soppiantato con la loro farina i cereali, mentre i frutti delle querce dei faggi nutrivano i maiali selvatici, che erano una grande fonte di approvvigionamento alimentare. Le paludi, d'altro canto, nelle paludi si trovavano i pesci e gli uccelli migratori, che potevano sfamare la popolazione. Quindi, i nuovi centri agricoli nascono negli spazi adiacenti, confinanti con le zone forestali. Si verifica così un'integrazione fra l'economia agricola e un'economia più primitiva, che si poggiava sulla caccia e sulla raccolta. Con la scomparsa delle grandi città, si crea una nuova cellula produttiva, la cortis. Cos'è la cortis? Le antiche ville patrizie romane si erano fuse tra di loro, dando origine a queste cellule, in cui esisteva una pars dominica, cioè la parte dove c'era la dimora del Signore, difesa da una palizzata e con dei campi di proprietà del Signore intorno, e la pars massaricia, o quella destinata ai contadini o massari, che ricevevano in concessione dal Signore un pezzettino di terra da lavorare. dovevano risarcire il Signore per questa sua donazione, o in natura, dandogli una parte del raccolto, o in corvè, che era un lavoro gratuito non retribuito da svolgersi nella pars dominica, oppure in denaro, più raramente, visto che il denaro andava scomparendo. Ecco, qui vedete il lavoro di corvè, dove i contadini lavorano gratuitamente nella pars dominica, che vedete è più alta e ben difesa, dove c'è un edificio difeso da una palizzata, mentre loro vivono nella pars massaricia, destinata appunto agli abitanti, alla popolazione, giusto perché produceva un'economia agricola giusto di sussistenza, cioè giusto per sopravvivere. In che cosa consisteva la produzione della cortis, quindi? In orticultura, quindi ortaggi, cerealicoltura, cioè coltivazione di cereali, con un raccolto annuo, se andava bene anche due, però a cui si affrancavano anche la caccia, la pesca e la viticoltura. La produzione della cortis, ricordiamo, che era finalizzata all'autoconsumo, cioè giusto a mantenere la comunità. Quindi questa economia di autoconsumo si sviluppava in zone concentriche. Viene sempre di più ridotto lo spazio destinato all'are coltivabili e c'è sempre più scarsità di mano d'opera e quindi diminuisce la produttività. Vedete, al centro di queste zone concentriche c'è il villaggio, intorno al villaggio ci sono gli orti e i vigneti in cui si producono dei prodotti agricoli che danno più raccolti l'anno. Nella fascia più esterna ci sono i cereali, i grandi appezzamenti di terreno destinati ai cereali, che danno uno o, se va bene, due raccolti l'anno. E nel cerchio più estremo ci sono i boschi e le paludi che danno selvaggina, legname e raccolta di frutti spontanei, nonché pesci delle paludi e uccelli migratori. Quindi questa economia di autoconsumo si sviluppa, vedete, in zone concentriche. Nella Cortis si produce tutto ciò di cui gli abitanti hanno bisogno. Solo alcune cose, come il ferro per gli strumenti da lavoro e il sale per conservare i cibi, vengono acquistati nei mercati attraverso un'economia di scambio, attraverso il baratto. I contadini portavano la loro sovrapproduzione nei mercati in cambio, appunto, di materiali come il ferro e il sale. Ricordiamo che il mercato di Lanzo, che ha 800 anni, era uno di questi mercati che riunivano, appunto, la produzione curtense di quel periodo. In questo periodo la Chiesa diventa un grande punto di riferimento per la popolazione. Una volta diventato il cristianesimo una religione di Stato, i Vescovi erano diventati le autorità principali delle città. Tra essi il più importante era il Vescovo di Lomo, ossia il Papa, diretto successore dell'Apostolo Pietro. La Chiesa godeva di una discreta ricchezza dovuta alle donazioni di molti fedeli, sia in termini di territori che in termini di beni mobili, cioè di denaro e di ricchezze. Cosa faceva con questa ricchezza la Chiesa? Aiutava i poveri e poteva pagare i riscatti e i tributi ai barbari per evitare che essi saccheggiassero le città, salvandole così dalla distruzione. Inoltre la Chiesa, attraverso i monasteri, che andremo poi a vedere cosa sono, organizzano la vita e il lavoro nelle campagne che ormai erano state abbandonate. Abbiamo parlato di monasteri, ma chi erano i monaci? Monaco viene dal greco monos, che vuol dire solo, cioè colui che vive da solo. Infatti il monachesimo nasce in Oriente, in Palestina e in Egitto, tra il II e il IV secolo d.C. Alcuni religiosi si ritiravano in luoghi isolati e deserti, detti eremi, da ciò venivano chiamati eremiti, per pregare e fare penitenza. Altri monaci, invece, soprattutto in Occidente, preferivano vivere in piccoli gruppi nei monasteri, dove pregavano assieme e si assistevano a vicenda. Tra di loro si chiamavano fratelli, mentre l'abate, che è il capo della comunità, veniva chiamato padre. In Italia questo fenomeno si diffuse grazie a San Benedetto da Norcia, che fondò l'abbazia di Monte Cassino, nel Lazio, una delle più grandi d'Europa, attraverso la sua regola, che prevedeva la preghiera, ma anche il lavoro. La famosa formula, ora et labora. Quindi, come si svolgeva la vita in un monastero? Gran parte della giornata era dedicata alla preghiera, si pregava sette volte al giorno, secondo i tempi della Chiesa. Però bisognava anche dedicarsi al lavoro, sia manuale, cioè bonifica e coltivazione dei terreni abbandonati o paludosi, centri di produzione agricola autosufficienti, ma anche coltivazione di erbe officinali, dedicate alla medicina. Il surplus della produzione dei monasteri veniva dedicata all'assistenza dei poveri. Ma si svolgeva anche un lavoro intellettuale, attraverso la conservazione e la copia di testi sacri e testi classici. Quindi i monasteri diventano dei veri e propri centri di produzione culturale. Chi si occupava nel monastero di copiare i libri? Se ne occupavano dei monaci detti amanuenzi, perché scrivevano a mano, su pagine di pergamena, ricopiavano i testi sacri, ma anche i testi classici, che avevano recuperato dalle biblioteche delle città ormai in rovina. Per avere una copia di un libro bisognava scrivere a mano per mesi e anche per anni. Possedere un libro era un segno di grande ricchezza, infatti i libri venivano acquistati dagli imperatori, dai re, ma anche dai nobili o dai vescovi. Ogni monastero aveva uno scriptorium che era dedicato proprio a questa attività e una biblioteca. Quindi per riassumere questo capitolo possiamo dire che dopo la caduta dell'impero romano e una volta arrestatesi le invasioni barbariche, l'Europa risultava un territorio distrutto e spopolato in cui le attività economiche e di commercio si erano ridotte a un'epoca un po' più primitiva rispetto all'impero romano che si fondava sul baratto e sull'autoconsumo approfittando anche dei frutti spontanei che metteva a disposizione l'incolto che ormai aveva ricoperto quasi tre quarti del territorio europeo. In questo diciamo in questo quadro desolante di distruzione spicca la presenza della Chiesa che diventa ormai l'unico punto di riferimento per la popolazione e oltre a rimettere in moto l'economia ad aiutare i poveri e i malati svolgeva anche una grande funzione culturale visto che le scuole pubbliche e le biblioteche pubbliche erano chiuse nel chiuso dei monasteri nello scriptorium venivano ricopiati libri sacri ma anche libri classici che servivano a tramandare la cultura in un periodo in cui era quasi impossibile fare cultura. Quindi all'inizio del Medioevo troviamo in Europa questa situazione determinata da questo arretramento economico e dalla Chiesa che cerca di portare avanti in un certo qual modo l'economia ma anche la cultura è un'altra cultura. Grazie a tutti.